E... Ciao a tutti, io sono Luca Io sono Claudio Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capito un masso No, facciamo per voi No, aggiornamento sulla questione pagelle Vi ricordate, abbiamo postato qualche giorno fa un video su fatto delle pagelle Abbiamo scoperto che praticamente il 90% di voi sono o universitari o vecchi bakuchi che hanno fatto la scuola nel 31 E quindi abbiamo deciso però, dato che noi siamo dei sovrani magnanimi Sì Chi coglie la citazione, bravo Di estendere anche a voi universitari, a voi vecchi bakuchi la promozione Cosa devono fare? Esattamente, ricordiamo che cosa si trattava la promozione Promozione si trattava che per i nostri amici delle medie e delle superiori Venendo qui, facendo un acquisto e presentando la pagella in originale Noi avremmo fatto dei regali Un sacco di regali Quanti regali? Eccoli qui Dopo vi riusciamo a vedere Sì, sì, sì Più la pagella era bella, più il regalo sarebbe stato bello A questo punto abbiamo deciso che anche per voi universitari, anche per voi laureandi, anche per voi vecchiardi Se portate la pagella o il libretto universitario facciamo dei regali Più la pagella è bella, più il libretto è bello, più belli saranno i regali Niente pagella Niente regali Ecco È la lura legge, la lura legge, è la dura legge della vita È la lura legge Esatto, ma è così Tanto oramai avete 40-50 anni, lo avete capito Dovete portare la pagella e noi facciamo dei regali Esatto Quali regali? Quali regali? Tutti questi Guardate qua quanto ben di Dio che vi regaliamo qua Kit di pulizie, accessori, zippo Zippo ovviamente solo se fumate se avete più di 18 anni Se siete dei piccini non vi vogliamo il fumo Oppure se vi volete regalare al papi Sì Fantastico Ficci con taffi, portati Un sacco di roba Cuffe, libri, DVD, altri libri, tazze, cappellini, tracolle, cuffie, venghino signori venghine, magliette, carri Tanta roba Ma starete chiedendo voi come possiamo ricevere questi regali In base a cosa li riceviamo? In base alla fascia di prezzo Qui vedete tutto Vedete, se fate uno scontrino da 50-149 avrete un premio Tra quelli relativi Sì Se fate uno scontrino Al primo step che è il primo Il primo Primo step, secondo step, terzo step Esatto Il secondo step è da 150-349 Il terzo step è da 350-Infinito Compro tutto il negozio Se siete degli scevicchi, degli emiri di Dubai che volete comprare il negozio Vi regaliamo tutto il terzo step Esatto Tutto il nostro step lo regaliamo Quindi amici scecchi di Dubai o emiri o chi regna lì Venite qui che ci seguite da casa, ciao a tutti Venite qui e comprate così potete Ma portate la pagella Ma portate la pagella Non vi vendiamo niente Non vi vendiamo niente Anzi, vi vendiamo tutto ma non vi facciamo regalo Esatto Niente regalo per voi Quindi, è tutto chiaro? Avete bisogno di spiegazioni? Fateci sapere in un commento Grazie Vi aspettiamo con la pagella Ecco In originale, non le fotografie, non ci interessa niente No, l'originale Vogliamo la pagella originale Di qualsiasi anno Esattamente Di qualsiasi epoca Di qualsiasi anno, qualsiasi epoca e il libretto Il libretto Non dite che avete il libretto elettronico, non mi interessa niente Lo stampate e ce lo portate Lo mandate in stampa Sì, non ti stampa Ci sono le stamperie Esatto, noi ci piace Ci piace il cartaceo Ci piace sentire, toccare le robe Vi aspettiamo qui in negozio Ovviamente, appunto, per tutte le informazioni Commenti Condividete Così che tutti sappiano che cosa stiamo facendo Like Perché ci dà tanto piacere E ci vediamo presto Con le pagelle Con le pagelle Yeah Yeah Evviva Un sacco di regali E con il grembiolino Se avete il grembiolino Voto in più Io ce l'ho Ce l'ho a qualche parte Io ce l'ho Ce l'ho ancora Ce l'ho ancora Sì, mi arrivano Musi come mutande Quattate Volete che le usi come mutande? Lasciate me lo scritto Commento In un commento Va bene Ok, siamo degenerati Come al solito Come al solito Si inizia bene Si inizia malissimo Va bene Ciao amici Ciao amici Grazie A presto